Senatore Consiglio ha presentato un'interrogazione insieme al collega Stucchi per i fatti incresciosi avvenuti nel Bergamasco. Sì, è sembrata una cosa buona e giusta direbbe qualcuno perché quello che è successo al Chiuduno nel Bergamasco ha dell'incredibile. Una provincia direi scioccata, ma direi addirittura un nord scioccato. Una ragazza ligia al giuramento che ha fatto quando è diventata medico di soccorrere chi che sia, si è prodigata nel salvare una vita e ha trovato la morte. Questo mette in condizione una comunità intera di riflettere su chi probabilmente chiacchiera troppo sull'integrazione, chi ha in mente di abolire la Bossi Fini, chi ha in mente di pensare che siamo in un paese dove si può fare tutto. Tornando invece alla vittima, alle vittime, credo che ci siano delle serie riflessioni da fare. La ragazza è da considerare a tutti gli effetti un angelo per quello che ha fatto e per quello che ha dimostrato di poter fare e di voler fare. E questo ci mette in condizione di poter dire che esistono ancora anime buone che non sempre trovano anime altrettanto buone. Il razzismo, una serie di considerazioni che vengono fatte a tutti i livelli, io vedo solo ed esclusivamente una bravissima ragazza che ha perso la vita con della gente che probabilmente non doveva stare in quel posto. E se noi ci prodigheremo sempre a dire che siamo buoni, che siamo belli, che siamo bravi e non metteremo in condizione proprio questo paese di ragionare in altri termini, di questi casi ne succederanno ancora.